Ciao da Antonio di Calzature Nucca, benvenuta ancora una volta nel nostro negozio chiuso, ma noi siamo qui per vedere assieme quelli che sono le nostre proposte per la primavera estate. Ti ricordo che le vendite, il sito è attivo, le consegne le facciamo in tutta Italia, anche all'estero, se dovesse capitare come in questi giorni è capitato, e questo video in particolare è dedicato alle borse, quindi per la prima volta andiamo a vedere assieme alcuni modelli di borse nelle diverse varianti e avremo anche una sorpresa. Le borse che andiamo a vedere oggi sono di la Carry Bag, sono delle borse, vedrai, molto grintose, ricche di accessori e oggi andiamo a vedere in particolare tre modelli, una cartella, una baguette e un secchiello, nelle diverse varianti. Ora andiamo a vedere la cartella, che è uno dei temi più forti di questa azienda, vedi questa è intanto in ecopelle come materiale, ha tutte queste borchie, ha la catena, vedi così, e ti faccio vedere anche com'è fatta all'interno, eccolo qua, che si apre ed è all'interno come vedi molto spaziosa, quindi adatta sia per le serate ma anche per lavoro, per metterci un sacco di roba, hai le tasche diverse anche per mettere le varie cose. E per oggi abbiamo Carlotta come modella di eccezione e che ti fa vedere la borsa come va portata, quella qui, ecco sia con la tracolla corta poi eventualmente c'è anche la tracolla più lunga che è opzionale, si può aggiungere o togliere a seconda. Ecco ora la versione con la raffia, questa come vedi è nera in ecopelle e la parte davanti è in raffia con le borchie, le catene molto molto grintose, anche molto estiva, perfetto così giri, qua vediamo la di ferro. Ecco fa conto che come interno è fatta uguale cambia solamente appunto la parte esterna. E ora la versione in bianco, molto bella, eccola qui portata a tracolla come vedi con la catena dorata, naturalmente anche la sua tracolla più corta ed è sempre ecopelle bianca con la raffia e le borchie. Eccola qua. Bene, dopo aver visto la cartella ora andiamo a vedere un altro modello e in questo caso è la baguette, cioè una piccola tracollina piuttosto elegante, quindi questa si apre con il bottone e comunque all'interno ha uno spazio anche notevole. Come vedi la parte è bianca, questa parte sempre con la nostra raffia che è molto estiva, molto bella e grintosa abbinata all'oro. Ecco la nostra baguette che può essere portata a mano, può essere messa a spalla oppure anche a tracolla, eccola qui. Adatta come vedi questa sia una serata, anzi principalmente è un'occasione, una serata però grintosa e non classica come concetto. Ecco ora la versione in nero, sempre con le stesse altre caratteristiche uguali della borsa bianca di prima, sia di misure che di utilizzo. Chiaramente questa nera ha un impatto un po' più suare, come dire. Ed ecco la nostra baguette, ora in versione rossa con le borche dorate, anche questa. La dimensione è sempre la stessa di quella di prima, però questa volta in ecopelle trapuntata con le borche color rosso. E non poteva mancare naturalmente la versione in nero che è un passepartout che specialmente nell'ottica di queste borse un po' più femminili va sempre bene. E infine uno dei pezzi da 90 di carry bag che è il secchiello, che è la borsa con cui questa azienda sostanzialmente è nata e questo te lo faccio vedere in una versione super tempestata di borchie e pietre. Naturalmente anche qui abbiamo la tracollina corta da portare a mano e poi anche la famosa tracolla lunga. E adesso lo vediamo nelle varie versioni. Qua nello splendore del colore giallo, assolutamente estivo e vivace sicuramente per farsi notare. Ecco ora il nostro secchiello nella versione bianca, anche questa bellissima, molto estiva, luminosa, eccolo qua, da portare sempre a mano oppure spalla così o a tracolla. Ecco chiudiamo con la versione in nero che è sempre la versione un po' più chiccosa. Ecco qua, quindi anche questa è la terza versione del secchiello. Bene hai visto questi modelli di carry, i tre modelli che abbiamo visto ti ricordo sono stati quindi la cartella, il secchiello e la baguette. Ti ricordo che sul nostro sito www.calzaturenucca.it puoi trovare questi modelli e molti altri e soprattutto che tutti hanno un'offerta speciale che puoi cogliere immediatamente con consegna veloce e immediata e gratuita. Bene anche per oggi la nostra puntata è terminata, ti saluto, ti ringrazio di averci seguito e ci vediamo alla prossima.